Sono le vincitriche di questo torneo e quindi campionessi d'Italia del 19 verranno premiate da Luca De Luca, fondatore di Mr. Rani che è lo sponsor ufficiale di questo nostro appuntamento grazie a Mr. Rani insieme a il vice sindaco e l'assessore del sport Giovanni Battista Marelli grazie 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 consigliere federale e nazionale della federazione italiana Pagliobolo applauso per le campionesse d'Italia del 2016 Chiaratei ed è calcito Chiaratei ed è calcito con certo effetto vedere questo scudetto si chiama io più la mattina anche qui sport village la commissione tecnica composta da coach Fosco Cicco a coach Dereggio Feroleto della nazionale italiana e da coach Giuseppe Feroleto e rappresentanza dell'STB Cimbole Amantea hanno decretato che la miglior giocatrice del torneo femminile è l'atleta Reca Orsi Totti che è stata consegnata e offerta da L'Avis questa è stata consegnata da Leonardo Ferrare che è il presidente dell'Avis di Alessia Inter pregherei anche a Anna Meri Fasseggi rappresentanza dell'azienda Particolari e omaggio alle ragazze di questo bellissimo regalo floreale pregherei di spostarsi un po' vicino alla sinistra del podio un applauso per i nostri fotografi vi rispondo Massimiliano Natale Antonio Natale alla squadra Mainz Qua a sinistra ragazzi Grazie